Non ci sa per quale strano motivo è morto YouTube anch'io. Comunque qua stiamo al ristorante con mia mamma. Saluta. Chi dovrei salutare? I miei mamma. Ciao fan di DJ Filippo. Sono quelli di YouTube. Filippo, il telefono non lo hai messo? No, no, no. Allora, qui c'è il mio fratello Diego che è uno scemo. Una scemo. Dentire ed educato. E poi fate lo scemo, no? Allora, stiamo qua alla baguetteria. Non si sa per quale scavolata di motivo è morto YouTube anch'io. Cioè, poi non lo dà neanche al telegiornale che quella è la leggenda di YouTube. Vabbè. Ciao ragazzi, a presto. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie a tutti.